Il Comune ha approvato il 28 aprile la delibera bis che fu dichiarata illegittima lo scorso 30 novembre da una sentenza del Tarro. Un atto approvato, appoggiato da una lettera del Ministero e della Prefettura di Ascoli che secondo il PDL però non poggia su norme vigenti concrete. Per questo motivo il PDL impugnerà di nuovo questa delibera facendo un nuovo ricorso al Tribunale amministrativo annunciando che qualora il Tarro dovesse ribadire le ragioni del centro-destra stavolta per San Benedetto non ci sarebbe altra alternativa che il Commissario. Mi viene da sorridere perché è diventata più una battaglia legale che una battaglia politica in Consiglio però siamo costretti a fare l'ennesimo ricorso perché secondo noi l'invito portato dalla lettera del Prefetto ha molte perplessità, ci lascia molto perplessi quindi chiediamo all'ordano giudicante, al Tribunale amministrativo regionale e l'UMI. Ci sarà un ricorso al Consiglio di Stato da parte del Comune per la prima vicenda, poi adesso c'è il ricorso al Tarro per questa seconda delibera, non si rischia un caos a San Benedetto? Ma sicuramente, poi tra l'altro di procedimenti e di sentenze ce ne sono arrivate altre in questo periodo quindi secondo me c'è troppa superficialità all'inizio nell'affare e presentare i punti e le delibere quindi questo sfocia nella nostra ovviamente opposizione che va fatta non solo tra i banchi del Consiglio Comunale ma anche a questo punto quando ci sono presunte illegittimità di atti anche al Tribunale amministrativo regionale quindi sicuramente il caos lo creano inizialmente loro. Il non presenziare al Consiglio Comunale dell'altra sera non è stata un'occasione persa per voi per rivendicare le vostre ragioni? No, un'occasione persa non la vediamo così, francamente la vediamo in tutt'altro modo nel senso che non siamo venuti a farci prendere in giro perché oltre al danno pure la beffa sostanzialmente qui si passa sopra anche come un rullo compressore anche sopra una sentenza del Tarro. Quindi francamente tutto quello che di politico e di opposizione politica andava fatta l'abbiamo fatta anche a tramite mezzo stampa, attraverso i comunicati e attraverso anche questa intervista. Però vogliamo la parola fine su questa storia, la può dare solo un organo deliberante. A questo punto vuoi spiegare il commissario? Se il Tarro dovesse esprimersi come si è espresso il 3 aprile penso che questa volta non ci sarà altra soluzione se non quella di un nomina di un commissario.